Quarta vittoria consecutiva per l'Arezzo che ha battuto il Ducato Spoleto per 6-0. Tre punti che consentono alle ragazze Amaranto di superare in classifica il filecchio e restare scia della capolista Bologna. Fischio d'inizio e dopo appena 15 secondi l'Arezzo sblocca il risultato con Costanza Razzolini che batte Gentile al primo tiro in porta. Uno dei gol più veloci di tutti e quattro i gironi di Serie C femminile. Lo Spoleto prova subito a rimettere in pari il risultato con Principi ma Valgimighi non si fa sorprendere dalla conclusione ravvicinata. Pochi minuti e le ospiti conove scati hanno un'altra occasione. Attenta anche questa volta la numero uno a Amaranto. L'Arezzo prova con insistenza la seconda rete che arriva solo al 44esimo con Capitan Verdi che raccoglie al volo un cross di Cosi. Le squadre vanno a riposo sul 2-0. Nella ripresa al 52esimo Razzolini alla prima occasione non sbaglia battendo sul lato più lontano Gentile siglando la rete numero 13 stagione. Le Amaranto continuano a tenere il controllo del gioco e al 60esimo trovano la quarta rete direttamente da calcio di punizione con Orlandi. Al 72esimo bella apertura di Lulli che vede tutta sola in aria Agnisci che non sbaglia e fa il 5-0. Prima del triplice fischio arriva anche il sesto gol con Orlandi che si libera dalla marcatura di quattro avversarie e batte Gentili. L'Arezzo sale adesso a 34 e resta scia della capolista Bologna quota 36. Prossimo impegno in casa del Riccione.